Martina ed Edoardo, Martina! Buongiorno a tutti! che se gli dà la piccolina con la tua borsa è brave, ecco le quadri ma guardate ecco, che bello i capelli che bello i capelli andate là in fondo, piano piano andate là in fondo, piano piano andate là in fondo, fino là in fondo poi ritornate qua, piano piano attenzione che la metana non è molto larga girare e tornare indietro e tornare in fondo... e tornare in fondo... ok... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Accessori hanno di Arianna, Patrizzi, Pancrazi e gioielli di Silvetti, Daniele. In più, se portano gli occhiali, quelli che porteranno gli occhiali sono dell'ottica aerea. È proprio un'emozione indossare certi vestiti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che vi dicevo che la scalinata di Piazza di Spagna non ha niente, noi non abbiamo niente da invidiare. Però se avete le mani libere, un bel applauso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.